... ... ... ... ... Commentiamo con il dirigente del Regium, Yannô, questo incontro. La partita è stata una partita strana, abbiamo giocato per 60 minuti, un buon calcio, anche se non abbiamo creato azioni da golle né noi né le due squadre. poi abbiamo subito il gol su una punizione strana che era un cross, ci sono state una sbagliata di lisci e la palla è entrata da dentro abbiamo cercato di reagire e poi di contropiede abbiamo subito il secondo gol un altro gol strano che ci ha tagliato le gambe e non siamo riusciti a ripartire il primo gol e poi il resto l'avete visto tutti perché poi la partita si è incanalata su un binario negativo per noi diciamo com'è questo campionato, com'è cominciato e come pensate di proseguirlo? diciamo che noi abbiamo fatto... gli obiettivi gli obiettivi nostri sono di una salvezza tranquilla senza chiedergli altro al campionato abbiamo iniziato con due partite giocando bene con due squadre che puntano a vincere il campionato abbiamo fatto due belle partite con Scillese e con Forti Doloreggio abbiamo raccolto forse meno di quanto abbiamo seminato oggi abbiamo giocato anche con un'altra buona squadra però è andata così accettiamo il risultato e andiamo avanti grazie